Eccoci pronti a trasferire la pasta e patate con i fagioli all'interno della teglia dove andrò a mettere scusate se passo davanti alla telecamera dove andrò a mettere ovviamente la provola tagliata a pezzettini eccola qui, la dolada e poi ci andrò ad aggiungere la smacinata di pepe oltre a una grande grattugiata di parmigiano reggiano che già mi sono portato avanti, l'avevo preparato giriamo un po' così si addensano i sapori se vi è piaciuto questo video mi raccomando condividetelo con tutti i vostri contatti iscrivetevi al mio canale e mettete tanti like ok, andrà al forno per una ventina di minuti barra 30, tempo che si farà la crosticina e poi la potremo sformare e che ve lo dica fa, voglio una prelibatezza preparati i fini smacinata di pepe e via nel forno prediscaldato a 180 gradi ripeto per una ventina di minuti forno statico a dopo ciao a giù, se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al mio canale e che ve lo dica fa grazie a tutti